che non sta dice allora sto tagliando le parti del cassetto scusate ma appoggio la voce sto utilizzando questo che è il segato nuovo della parkside ed è una bomba veramente sto provando è precisissimo c'è anche la lucina e sto tirando tutto a mano libera insomma senza vedere niente perché posizionare le guide per così tanti pezzi mi porta via davvero un mucchio di tempo quindi procediamo adesso non posso farvi vedere qui perché non ho il cavalletto sono qua col cellulare ci sarà occasione per il momento vi avviso che sto tagliando con questo quindi se siete tra i fortunati che il 23 io parlo per lidl di san martino siccomario se siete tra i fortunati che il 23 dicembre ci sono accapparati uno di questi attrezzi qua la c'è la smerigliatrice niente buon per voi buon per voi buon per noi perché funziona davvero bene qua batterie comodissimo senza cavo e tutto un saluto a pimp mike mike parkside e giovanni piana fondatore dell'omonimo gruppo fra poco scaricherò dei video di fai da te dove si vedranno all'opera mi vedrete all'opera con articoli parkside di nuova generazione e di vecchia generazione perché ci sono nel mio laboratorio ci sono articoli vecchi anche di dieci anni se non di più che utilizzo tuttora davvero ottimi e basta viva parkside ciao ciao